Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Una splendida notizia è appena giunta. Le condizioni della principessa Kate stanno migliorando, anche se il percorso verso la guarigione è ancora lungo. Secondo i media internazionali, Kate ha ripreso a lavorare da casa su consiglio dei medici, facendo attività che le piacciono e mantenendo la sua routine quotidiana. Dopo la sua apparizione al Trooping the Colour, i sudditi attendono con ansia la prossima occasione per vederla in pubblico. Kate ha fatto sapere che spera di partecipare a qualche evento pubblico durante l'estate. I tabloid britannici ipotizzano che potrebbe comparire al torneo di tennis di Wimbledon, un evento che attira l'attenzione mondiale ogni anno. Come patronessa dell'All England Long Tennis and Croquet Club, Kate ha sempre partecipato alla finalissima del torneo, che le procura più divertimento che stress. Tutti sperano di vederla presto di nuovo in pubblico, e le notizie positive indicano che Kate parteciperà sicuramente a qualche evento nei prossimi mesi. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.